Fuori dal core con un forte richiamo alle responsabilità che la politica regionale deve assumersi nei confronti di un territorio avvilito dall'emergenza sanitaria. Appare così la lettera del segretario del PD della città dell'isoladino Massimo Salpa al presidente della regione Calabria, Mario Oliverio, con cui si chiede senza se e senza ma la riapertura dell'ospedale di Praia Mare. In una lunga premessa in cui vengono descritti gli attimi terribili della morte di Antonio Castiello avvenuta in strada martedì sera, il segretario dei Democrat di Praia Mare non risparmia aspre critiche alla pesante eredità lasciata dal precedente governo regionale guidato da Giuseppe Scopelliti, ma allo stesso modo invita il neopresidente Oliverio, notoriamente in quota PD, a non peccare di incoerenza, dando una regolata a quel piano di rientro sanitario che è, a dir poco, scellerato. L'ospedale di Praia Mare, scrive Salpa, è ormai una bandiera a mezzasta che serve solo a contare i morti. C'è, ma è inutilizzabile, è una struttura disabitata che non serve a nessuno. Bisogna tener conto della sentenza del Consiglio di Stato che ne sancisce la riapertura ed è ora che venga rispettata. Il nostro nosocomio, conclude Salpa, è sempre stato importante e oggi, più che mai, a fronte delle tante persone morte ingiustamente, diciamo che non meritava di essere chiuso. La morte deve avere la sua dignità e morire senza soccorsi è disumano. Anche il Circolo Selle di Praia Mare si unisce all'appello lanciato da associazioni e partiti politici. Il tavolo massicci, spiega Francesco Marsiglia, segretario della sezione locale, ha dato il suo ok alla riconsiderazione dei presidi di Praia Mare di tre bisacce quali ospedali territoriali. Bisogna solo velocizzare il tutto. Certamente se avessimo avuto un rappresentante locale in regione avremmo avuto risultati migliori in minor tempo. Purtroppo stiamo assistendo a una strage annunciata. Non abbiamo tempo da perdere. Grazie a tutti.